ciao io siamo pronti per l'impiattamento paste e fagioli con le cozze spolveratina di prezzemolo smacinata di pepe e andiamo all'assaggio pasta e fagioli con le cozze spettacolare fatelo anche voi commentate e iscrivetevi al mio canale perché è gratis e che ve lo dico a fare ciao a you